ciao ragazzi qua il professore aggiornamento su a perverse perché questo mondo perverso ha stravolto un po le cose quindi adesso si passa a 2.0 ed è un diktat allora cercare di vedere qualche video però io devo dire la verità e non capisco che la gente ci mette fin di minuto un'ora per parlare quindi in sintesi andiamo a riassumere cosa è successo ci stanno dando l'opportunità diciamo l'obbligo per continuare a far parte dell'azienda perverse di cambiare un po quello che noi andiamo a guadagnare quindi andare a guadagnare effettivamente circa un 30 per cento in meno questa è la sostanza laiamo 2.0 sostenibilità per quattro regaline regalette ma verità ci voglio andare meno soldi cosa succede che adesso se aprite a perverse vi dice attivare 2.0 c'è una data a metà del mese dove se accettiamo di far parte 2.0 automaticamente ci saranno dei disagi se invece noi accettiamo possiamo continuare a continuare ad avere lo stesso guadagno che avevamo prima quindi 0.5 per cento al giorno però piano piano poi non si potranno fare più i rebuy e quindi poi usciremo fuori dal diververse quindi se vi siete stancati perché lo posso pure capire perché tutti stagionamenti cambiamenti se non voglio fare più niente mi ripiglio i soldi e pian piano mi firmo considerando anche che ogni volta che prelevate se non fate i rebuy poi l'ammontare diminuisce quindi ci vorrà sempre più tempo per riprendere tutti i soldi quindi non è una strategia che consiglio oppure accettare questa qua questa qua significa che loro dicono per quattro quindi il nostro fondo aumenta invece di avere un fondo per tre e per quattro quindi quella differenza automaticamente è la calcolata e ci aumenta il fondo ma noi il fondo non è di interesse più tanto perché fondamentalmente il guadagno giornaliero ci interessa perché la percentuale e sui soldi che noi abbiamo messo e non su il bonus su quel fondo quindi da 0.5 si passa a 0.3 ora mi domanderai ma cosa succede per fare il calcolo il professore vi dice prendete la calcolatrice e scrivete per esempio se guadagnavi 40 euro al giorno tu devi fare 40 diviso 0.5 quindi la metà e ti fa la metà 80 80 per 0.3 e ti dice che adesso guadagnerai quando 25 la facciamo un ottimo è così per tutti i calcoli facciamo un calcolo qualsiasi ok guadagni 10 euro 10 euro diviso 0.5 fa 20 quindi questo qua è la tua base ma adesso guadagni 3 quindi da 10 passi a 6 questo è 30 40 per cento in meno questa è diciamo non la fregatura che comunque ci paga però il calo è impressionante e poi un'altra cosa è che il rebuy da 50 adesso va a 125 quindi ci vogliono molto più più tempo più giorni per per fare un rebuy quindi chi ha fatto la perversa tempo addietro è molto avvantaggiato e chi lo inizierà adesso per vedere i soldi che deve fare il rebuy 125 e diventare 0.3 secondo me difficilmente entrerà adesso quindi questo video è per chi già entrato già ha un buon fondo e adesso le cose cambieranno però almeno l'importante è cercare di recuperare cerco di essere sintetico perché penso che queste erano informazioni principali che avevamo bisogno quindi confermiamo il fatto che da 0.5 si passa 0.3 e il rebuy adesso diventerà 125 e le membership saranno tutte per quattro pian piano quelle per tre verranno o già da partite al 15 o qui la annullate e cancellate perché questa è la nuova strada che ha scelto la perversa per continuare la sua sostenibilità l'altro canto effettivamente stava pagando veramente assai preferisco più questo che magari chiudono per per fallimento perché stanno andando a tanti soldi l'importante è che continui però se vogliamo dire mannaggia lo possiamo dire perché 30 40 per cento in meno una bella batosta un saluto al professore iscrivetevi a sto canale vi spiegherò altri business che sto facendo che pagano di più non so se dureranno tanto o poco ma vale la pena forse provare io l'ho fatto e vi farò vedere nei prossimi video quindi state aggiornati un saluto al professore